Sicurezza sul lavoro dibattito in aula approvata all'unanimità una proposta di risoluzione dopo l'informativa in consiglio dell'assessore Stefano Ciuoffo. Premiati i giovani cuochi della Toscana, i chef in erba della nostra regione hanno vinto il primo premio nella categoria cucina calda a squadre ai campionati italiani 2024. Si è parlato di sicurezza sul lavoro nell'ultima seduta del consiglio regionale della Toscana. In aula c'è stato l'intervento dell'assessore Stefano Ciuoffo a seguito dell'infortunio verificatosi a Firenze e costato la vita a cinque operai ma anche dell'ultimo incidente mortale verificatosi a Lucca. L'assessore ha fornito le cifre delle attività di prevenzione e controllo. Al termine è stata approvata all'unanimità una proposta di risoluzione per aumentare l'attenzione su questo triste fenomeno. Sentiamo prima le dichiarazioni dei gruppi di maggioranza. Noi pensiamo che l'impegno che tra l'altro la regione mette da tempo con atti, con leggi ma anche con protocolli concreti, ricordo quello nel settore del tessile per ispezione in tutte le aziende tessili di Prato quando ci fu l'incendio che costò anche lì alcune vite umane. Ricordo il protocollo per quanto riguarda la sicurezza del lavoro nelle cave delle Apuane, per quanto riguarda la sicurezza del lavoro nei porti di Carrara, di Livorno e di Piombino. Insomma c'è un impegno che è riconosciuto anche dalle statistiche perché ogni anno la regione toscana si colloca tra le regioni più virtuose per quanto riguarda appunto i controlli e per quanto riguarda la salvaguardia degli incidenti. Ma tutto quello che accade, anche un solo incidente ma soprattutto anche un solo morto, è una cosa che non è tollerabile. Quindi occorre fare di più. Noi indichiamo alcuni aspetti che sono contenuti anche in quelle che il nostro segretario Fossi ha chiamato la carta di Firenze. Vale a dire ridurre i subappalti soprattutto o almeno in alcuni settori che sono più esposti come quello dell'edilizia e della filiera agricola, aumentare i controlli e per questo occorrono più ispettori. Occorre maggiore personale sia per l'ispettorato del lavoro che amministriale sia per quanto riguarda anche le persone dedicate da parte delle aziende sanitarie. Occorre una formazione per la cultura della sicurezza e della legalità e questo deve essere fatto a tutti i livelli ad iniziare delle scuole. Poi una formazione che almeno in alcuni settori, penso a quello dell'edilizia per esempio, si faccia nel cantiere e si faccia con la presenza di tutte le figure professionali che sono coinvolte. Ecco queste sono alcune idee che noi indichiamo e su questo chiediamo l'impegno della Giunta e del Presidente di rapportarsi anche con il Governo perché si vada in questa direzione perché questo è veramente uno sforzo di civiltà. L'attività che può essere fatta viene svolta. Quello che riteniamo essere opportuno e doveroso che forse servono meno leggi ma serve maggiore verifica e puntualità e attuazioni delle stesse. Serve che le persone possano essere messe nelle condizioni di lavorare in maniera sicura e soprattutto che le nostre aziende sanitarie siano collaborative nei confronti degli imprenditori e nei confronti dei lavoratori. Serve magari maggiore comprensione, maggiore disponibilità, flessibilità ma anche normative più semplici. Questo è l'invito che fa Italia Viva per fare in modo che il lavoro possa essere svolto in sicurezza e che nel contempo le imprese possano lavorare ma nello stesso tempo le aziende possano essere dei soggetti che lavorano al fianco delle imprese insieme ai lavoratori semplificando anche il quadro normativo. Molte volte ci si limita o ci si difende facendo una normativa ma poi molte volte si creano maggiori oneri magari burocratici, meno carte e maggiore tutela del lavoratore. Dopo la maggioranza sentiamo adesso le opposizioni. La Lega tra l'altro ha proposto l'istituzione di un nuovo contributo a sostegno degli orfani e delle vittime sul lavoro. Partiamo proprio dalla Lega. Sì ecco, credo che il tema della sicurezza sul lavoro non debba mai essere un tema né che vada da una parte strumentalizzato né che vada da una parte affinché ci siano delle divisioni politiche. La Regione Toscana ha fatto e continua a fare delle azioni che siano appunto a tutela di tutti i lavoratori ma la strada è ancora lunga. La strada è lunga in Toscana ma è lunga anche a livello nazionale. Sappiamo che è in discussione il decreto lavoro appunto al Parlamento che andrà appunto ad intensificare dal punto di vista di controlli dal punto di vista di gestione la sicurezza sul lavoro e abbiamo apportato anche noi delle richieste alla Giunta regionale perché pensate nel 2017 è stato chiuso l'apparato gestionale dal punto di vista amministrativo regionale che gestiva tutto il tema della sicurezza sul lavoro ed è stato accorpato a tutto quello che oggi è il tema della sanità, il tema della gestione anche sulla sicurezza in tema sanitario. Quindi una maxistruttura regionale su cui però ci sono dei dati allarmanti perché pochissimi sono i dipendenti che occupano la posizione in tema di controlli, in tema di sicurezza, è un lavoro molto molto delicato e dopo un paio di anni all'interno di quella struttura tutti i dipendenti o una gran parte di loro chiedono di essere trasferiti altrove perché comunque il lavoro è difficile quello di andare a controllare ma soprattutto di recarsi sui luoghi dove è avvenuta una morte. Quindi questo è quello anche che fa quell'ufficio competente e quindi un lavoro molto particolare, molto stressante, molto difficile su cui c'è bisogno anche di fare dei corsi di formazione, di corsi di stabilità anche psicologica per coloro che vi lavorano all'interno. Sicuramente la regione toscana ha dei punti a suo favore per quanto riguarda il numero dei controlli perché supera la media nazionale del 5% sul tema dei controlli però ha anche tante leggi che siedono lì e che sotto tanti punti di vista non hanno avuto ancora l'attuazione che meritano. Pensate, sono 100 le morti circa l'anno a contatto con l'amianto e ad oggi non c'è un piano amianto in Toscana. Ci sono i rider su cui tanto abbiamo dibattuto anche in consiglio regionale, c'è stata una proposta di legge ma ad oggi non sappiamo dal punto di vista di regolamento, dal punto di vista di attuazione della legge a che punto sia la giunta regionale. C'è il tema delle aggressioni, ricordo la dottoressa Capovani, le aggressioni all'interno dei presidi sanitari su cui la regione toscana ha investito e continua ad investire più di 2 milioni per la sicurezza nei luoghi appunto negli ospedali però non sappiamo anche l'andamento di quel percorso di formazione, di sicurezza, di tutela dei presidi ospedalieri a che punto sia. L'assessore si è sforzato di porci davanti un piano il più possibile rassicurante per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro ma l'effetto è stato esattamente il contrario. Sapere che il personale che è a disposizione per questa importantissima e delicatissima funzione ai minimi termini e che il fatto delle banche dati che tra di loro non riescono a comunicare permetta anche pochi controlli documentali è allarmante. I cantieri in Toscana sono moltissimi, disparati all'interno dei quali lavorano molte professionalità e l'unica proposta che secondo noi seria è arrivata dalla regione è quella di introdurre la possibilità di accedere a cantieri per tramite dello strisciare il proprio tesserino sanitario in modo da poter identificare tutte le presenze dentro un cantiere e sapere se queste sono preparate anche alla sicurezza. Ma non è sufficiente, sono state fatte delle campagne informative ma sono ancora troppo poche. Il settore dell'agricoltura continua a essere tra i più colpiti e sappiamo che quello dell'agricoltura è uno dei settori che occupa la maggior parte di manovalanze straniere che quindi hanno bisogno di una particolare attenzione proprio per la fragilità della situazione in cui spesso i lavoratori si vengono a trovare. È sottodimensionata l'infortunistica all'interno del sistema ferroviario e abbiamo il sistema del massimo ribasso che fa sì che la tutela del lavoro e dei lavoratori passi in secondo piano rispetto a quelli che sono dei conti ragionieristici per cercare di trarre il massimo possibile di ricavo da un appalto. Tutto questo è inaccettabile, il governo nazionale non sta facendo nulla al riguardo, anzi l'unico passaggio che sono stati fatti sono stati gli aumenti del personale per l'ispettorato nei posti di lavoro che sono stati fatti con i governi in cui il Movimento 5 Stelle si curava del lavoro e questo è gravissimo perché stiamo assistendo ancora oggi a un numero di morti che ci indigna ogni giorno e che fa essere i nostri messaggi di cordoglio ridondanti all'interno di una situazione grave in cui fondamentalmente manca il monitoraggio, il denaro e il personale che vada a fare dei veri controlli sul territorio. La regione toscana accorpando con una delibera nel 2017 la funzione di sicurezza con l'igiene veterinaria ha dato il suo colpo a sua volta e quindi qualcosa di più va fatto e non ci si può trincerare dietro un elenco di misure che non sono sufficienti, è palese. Allora proviamo a rispiegare quanto è accaduto sulla zona logistica semplificata anche di Livorno. La maggioranza dice oggi che è un blef, è la stessa maggioranza che all'incirco un mese fa lamentava che il governo non avesse ancora firmato il decreto del Presidente e del Consiglio dei Ministri che dà avvio all'organizzazione e poi di conseguenza alla partenza della zona logistica semplificata. Tutto il male stava nel fatto che il governo non avesse firmato quel decreto, anzi che avesse preso quel decreto predisposto dal precedente governo e lo avesse messo in un cassetto. Noi abbiamo spiegato semplicemente che il governo non aveva messo quel decreto nel cassetto. A settembre del 2022 la maggioranza politica in Italia è cambiata. Il nuovo governo, prima di firmare un decreto del Presidente e del Consiglio dei Ministri preso in prestito dal precedente governo, ha voluto dare una sua interpretazione politica e abbiamo tranquillizzato tutti, anche la maggioranza che governa questa regione, che nel giro di una settimana da quando ci siamo presi l'impegno il DPCM sarebbe stato firmato. Il 4 di marzo, esattamente una settimana dopo dalla presa dell'impegno, il Ministro Fitto ha trasmesso il decreto del Presidente e del Consiglio dei Ministri, firmato alla Corte dei Conti per la registrazione. Quindi non è un blef. Il primo passo che loro chiedevano e che dicevano senza di quello non si può fare niente è stato fatto il 4 di marzo del 2024. Quindi mi fa piacere che gli operatori che sono i principali interessati a istituire la zona logistica semplificata siano ben felici che il governo abbia sbloccato questo tassello e che ora si possa serenamente lavorare e istituire la ZLS. Non è contenta la maggioranza del Consiglio regionale? Ce ne facciamo una ragione. A me fa piacere che sono contenti i portuali, gli operatori del porto, chi dovrà venire a investire nei nostri porti, non soltanto in quelli toscani ma in quelli di tutta Italia. A me fa piacere che siano contenti loro. Se non è contento Marras, me ne fa una ragione. Cambiamo argomento. Si è svolta in Sala del Gonfalone a Palazzo del Pegaso la cerimonia di premiazione dei giovani cuochi toscani che hanno vinto il primo premio nella categoria cucina calda a squadre ai campionati italiani 2024. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha ringraziato l'Unione regionale cuochi della Toscana e l'Istituto Martini di Montecatini Terme che ha formato questi ragazzi. È una giornata bella per noi il Consiglio regionale perché con la Federazione cuochi in questi anni abbiamo messo in piedi tante iniziative. Tanti sono stati riconoscimenti alle qualità, alla competenza, alla manualità, all'amore per la propria terra che ha portato a vincere tanti riconoscimenti. Ma quest'anno per me è un riconoscimento ancora più sentito. Sapere che ragazze e ragazzi giovanissimi riescono a portare in alto il nome della Toscana, della cucina toscana, della filiera corta, della sua identità, mi dà il senso che il lavoro è quello giusto perché ogni qualvolta si riesce a far conoscere le qualità della nostra terra è bello e importante, ma quando a farlo sono i giovani che davanti a loro hanno un futuro importante e ancora più bello. A voi i miei più sentiti complimenti, continuate a portare in alto il nome della Toscana, cercate sempre di stare sulla frontiera del cambiamento, mantenete insieme l'identità e le tradizioni ma anche la cucina più moderna. Siete un orgoglio per tutti noi e vi auguriamo tanta tanta fortuna, professionale e nella vita. Grazie mille. Mi chiamo Tommaso Monaci, sono il team manager della squadra Juniors Toscana che quest'anno ha partecipato ai campionati italiani della cucina e ha vinto il primo posto e anche l'assoluto nei campionati della cucina. Allora, questo è il vostro lavoro, con cosa avete vinto? Allora, noi abbiamo vinto con un menù composto da quattro portate, un antipasto, un primo piatto, un secondo e un dolce. L'antipasto era un cilindro di gambero inserito all'interno di un tacos gelatinato da una gelatina di fragola. Il primo piatto invece erano dei tortelli ripieni di ricotta, cavolo nero e zeste di limone accompagnati da una battuta di gallinella e per completare il piatto il fondo di cottura della gallinella. Il secondo piatto era un filetto di maiale brado toscano con fungo cardoncello, una royal di fagioli all'uccelletto, il fondo ristretto del maiale, il fondo di cottura e una cima di rapa saltata. Mentre il dolce noi lo abbiamo chiamato fragole, 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 perché era un dolce composto soprattutto da una mousse di ricotta di pecula, con all'interno un inserto di fragola, tutto il guscio esterno ricoperto da una gelatina sempre alla fragola, con poi accompagnato a un muffin con sotto una crema inglese e per concludere un sorbetto alle fragole con sotto un crumble alla nocciola. Grazie.